Sono venuta da Sebastian Loi a Conegliano per fare un trattamento di botox alla fronte. Volevo una cosa molto molto leggera, anche perché è la mia primissima volta. Anche se sono giovane voglio prevenire tutte quelle rughe poi di espressione che si vanno a formare negli anni. La mia paura era quella di gonfiarmi, avere rossori, non poter tornare a lavoro, non poter tornare alla mia vita immediatamente. In realtà l'ho appena effettuato, non c'è nessun gonfiore, sono super felice, non ho sentito paura. La Beauty Advisor è stata molto disponibile con me, mi ha risposto a tutte le mie domande e adesso il risultato lo vedrò fra qualche settimana, ma non vedo l'ora.